Facciamo un grande applauso a Fisico, Giancarlo Fisichella, vieni, raggiungisi sul palco, Paolo, vieni qua con noi. Una grande, una grande occasione, una grande opportunità per te Giancarlo, Monza con la Ferrari, cosa significa? Brividi, brividi che pelle alta così. Sì, hai detto tutto, brividi, alti così, grande emozione, sembra un sogno, invece è realtà, quindi adesso ci devo credere, sto prendendo confidenza con la macchina, già mi sono sentito a mio agio nel team, un team fantastico, il miglior team al mondo e correre per questo lì mi rende orgoglioso, è il sogno della mia vita, si è realizzato qui a Monza, non potevo chiedere di più.